ok salve ragazzi qui vi parla mister game 91 e affrontiamo un altro episodio di gta san andreas giro di pista attila e atterraggio un'altra prova di volo affronteremo in questo episodio di gta che in passato c'era un gioco davvero grandissimo ma non devo fare cazzate attraggio un'altra prova di ok 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 nooo ok ma adesso mi cerca di fare tutto da cavo bene ragazzi qui dovrei fare un po' di tagli dovrei tagliare un po' di video che nooo però non farlo durare troppo a lungo nooo finalmente ce l'ho fatta e c'è valore bene vabbè questo è facile eh pronti a decollo ok 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 bene prossimo ah questo è l'atterraggio ah questo è l'atterraggio dai che poi non è poi tanto difficile non sono tanto difficile dai 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 bene ci abbiamo fatto anche qui o distruggere i bersagli e l'attro possiamo avanti che ok finirà avanti abbiamo avanti 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 Tutto facile, come per un bicchiere d'acqua, queste, queste, distruggere le auto, eh, anche queste auto bisogna distruggere, però questi sono in movimento, quindi sarà un po' difficile, però se prendiamo bene il tempo, tutto dipende da fare, oh, bisogna atterrare, maaah, coppa mia che faccio cazzare, eh, non vi preoccupare, ora farò tutto velocemente, in pochi secondi, vabbè, no, in pochi minuti, no, penso che non ci vuole niente, eh, uno, quell'altro muore, ehm, che faccio sempre cazzare, eh, non lo so, ah, eh, si sparavano pure i ragazzi, non me lo dimentico, ah, è ficata però, eh, è ficata, è ficata, è ficata. iscriviti al canale. stavolta ce l'ho fatta beh ragazzi penso che il video è durato un po' troppo non so quando è durato quindi ragazzi vi lascio qui quindi al prossimo episodio ragazzi